Il mio amico è il mio amico Ma sai che? Lo sai quando lui parò di fare l'imprenditore Il capo di governo Lui voleva diventare Lui e il suo scopo Lui si è montato la massa della testa Gli ha voluto fare il coso E poi diventare Presidente del Repubblico Si, 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 guarda quella Quella è che aveva Il dia che si è occupato